Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video, vabbè io sono freddico 2008, e questa è la seconda del video di ieri, che purtroppo abbiamo dovuto interrompere perché c'è stato un piccolo problema. Ma non vi preoccupate, è un altro account, quello vecchio è quello di mio padre, vabbè allora, ho notato in alto a sinistra che nel negozio hai un po' di robe belle, tipo questi 3 ticket gratis. Va bene, va bene, sì infatti po' ci ho scattato, vabbè, allora, vediamo, possiamo fare, va bene, raffugiamo. Io metto pronto, ricordate ragazzi, io sono sempre il boss, nel 2008 c'è quello con Carletta facendo una live, quindi andatelo a vedere, poi vedete anche io, quando lo passerò. E mi raccomando un'altra cosa, iscrivetevi, mettete like, e ovviamente anche nel canale di DanX2008 perché, se il video della prima parte e questo video, arrivano a una somma totale di 10 like, Federic2008 porta a una live su Brawl Stars. Cioè io, sto qua intanto scrive, che scrive, se gli esco vabbè, faccio un video alla quale, metti pronto, un video in cui scioppo, nella live sciopperà. Ehm, se gli esco a fare la live, se gli esco, vabbè, vabbè, se giochiamo, intanto di qualcosa che se no, sto contento. Ma comunque, adesso, se volete, potete, cioè, vabbè, non so parlare, faccio. Andate a vedere la live di Daniel, di Anix2008. Mi spoglio, poi c'è, poi c'è. Non c'è più colpi. No, no. Ecco. Non ho morto, 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 non ho morto. Ehm, che male. Mi butto lo softened in faccia. Sono morto troppo. No, questa piper mi vuole sediare. Dai, uccidetele, raga. Vai, 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 vai. Non vi deve scappare, neanche quella piper. Adesso, lei è morta, sono morto, io provo. Dai, distruggele, distruggele, distruggele. No, non puoi vedere. No, è morto Daniel Danix Comunque adesso sta facendo la live Quindi è andato a vedere Dopo che è finita la live Troiano ha fatto la connessione Non sta giocando il tuo bot Invece si, ha usato la super No, non volevo usarla Troiano del mio bot E' morto E' fermo se è morto No, voglio Mamma mia, come l'ho schifato quel colpo Ma porca Porca A me mi manca uno sputo Uno sputo di formica Giusto Dai è morto Corri, che cacchio fai? Stai a mangiare E' morto Perché c'è un schermo a castoro Castoro 2000 Castoro 2000 Provalo anche tu Castoro 2000 No, non vorrei morire Ecco No, poi ce ne aveva uno Che cacchio fai? Che cacchio fai? Che cacchio fai? Zero Inizio corso di bombardino Sta scrivendo Vabbè comunque Ve l'ho già detto Che sta facendo Allaio Quindi Che evento metto E lui Metti Vi cerca Vi cercati Va bene Va bene Sempre Piper Dai Vedere Start Mene Stapa No Però ovviamente Non col bombardino Dai Ah giusto Vediamo Potresti usarmi nel primo Io sarei molto contento Il primo Vabbè Oppure Non lo so Oppure In più Conto Però se per me Ti paghi Non c'è Non c'è Non c'è No 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 Dovessi mettere Anche bene Bello Guardate Ce lo credo Basso E lo Gio Mi sono Sali Gio Gio Staci Ma Ti Dio Che Dolore Ma I So Fa E Lo Gio no mamma mia che si rende io su cristo ce l'ha fatta mettere allora abbiamo perso per 2 minuti saltate per selezionare il brawler scusate ragazzi per questo video però allora con la stella no grazie no la stella 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 morici 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 l'hanno rubata i troiani sii ti cercai i bombardino ma no bombardino è forte col cavolo che la donna oh troianano ma che fai ti fai uccidere un bombardino scafone ma arriva l'account culo bello crevici crevici non ci credo mai cloro clorici la mia connessione interrotta tua sorella connessione un po scao va bene il mio botto com'è forte non sa neanche sparando bene ma se la scossa ha camperato che i fave non me ne frega ha ucciso un brocco con 4 ma si stai tenendo la che caffone che è quel bombardino ma non ci cg si ma io con cg mamma mia mamma mia cg cg caga duro cg 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 d vabbè lasciamo stare ma no ma cosa fa da lì ma è buono il deficiente DOCI dici lo dicevo io che era deficiente Nooo io Tu cı sono morto nudi , ma buoni ohunden o gesù cristo sono grande distruggilo mamma mia son 21 boom, presa in testa, ma no, hai fatto malissimo un headshot ma faccio tutte le kill le faccio io sorpresi, ma troia minchia scusata nooo 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 nooo, l'uccido io ma l'uccido, l'uccido si, si l'uccido nooo mi sa che ci dovrà essere mi sa che ci dovrà essere una terza parte del video perchè allora ragazzi questo video finisce qui perchè dato che Fede questo è l'account scarso, adesso faremo un altro video dove prenderà l'account quello da 2000 trofei quindi sono arrivato ieri dovete vedere quel video e bella ragazzi se riesco a spegnere ciao a tutti aspetta vi dovevo annunciare una cosa allora quando vi dovete dovete attivare soprattutto la campionellina così bella ragazzi ciao ciao